Buongiorno a tutti, mi chiamo Angela Resu e sono il presidente regionale FIAIP Valle d'Aosta. Oggi parliamo di formazione continua. Il settore operativo FIAIP cultura e formazione studia da sempre per gli agenti mobiliari FIAIP un piano nazionale annuale formativo al fine che gli stessi possano mantenere un aggiornamento continuo per far fronte alle numerose normative e disposizioni necessarie per lo svolgimento quotidiano del nostro lavoro, per far fronte alla difficile congiuntura economica che stiamo vivendo e all'inarrestabile quanto repentina evoluzione dei settori che rappresentiamo nel comparto immobiliare. La formazione è quindi al centro di tutte le attività della federazione come unico metodo di crescita professionale e federativa. solo chi sarà preparato e formato adeguatamente in futuro sarà in grado di raccogliere con successo le sfide che questo momento economico ci riserva. Attraverso la formazione continua garantiamo ai nostri interlocutori un servizio di qualità, servizio di mediazione che consideriamo un valore aggiunto alla trattativa per la vendita o la locazione di un immobile.